Ora parliamo invece di un'altra stanza un po' particolare che è la stanza del bagno, è una stanza molto particolare perché è proprio in questa stanza che si verificano molte cadute legate principalmente anche all'affollamento di oggetti e anche al fatto che il bagno sia piccolo, quindi per la persona con una demenza c'è veramente una grande scarsità proprio di spazi di manovra per lei. Non sto parlando qui di persone con demenza che sono in carezzello, che hanno degli ausili protesici, ma in questo caso sto parlando proprio della persona che è una persona che riesce ancora a stare fortunatamente sulle proprie gambe e quindi insomma deve andare in bagno e molto spesso si ritrova ad essere in un bagno anche molto piccolo. Al fine proprio di ridurre sia le difficoltà di movimento sia il pericolo di incidenti è sempre consigliabile mettere mano ad un muratore, quindi togliere di mezzo la vasca da bagno e utilizzare una doccia con una seduta. Quindi possono sicuramente essere utili uno sgabbello con il foro per lo scorrimento dell'acqua, il tappetino antisdrucciolo, ricordiamolo, sia da mettere sia nel pavimento della doccia sia fuori la doccia e insieme al pavimento al tappetino antisdrucciolo dotatevi anche di un tappetino di spugna dove la persona con la demenza si può tranquillamente poggiare i piedi e trovare subito un ambiente confortevole anche per i suoi piedi e non un tappetino appunto di plastica. Cercate di dotarvi anche di un portasapone a rete, questi portasaponi sono veramente molto utili perché sono dotati proprio di una corticella la cui estremità va fissata alla parete della doccia oppure della vasca ma io sono sempre contraria alla vasca quindi restiamo sulla doccia. Questo è uno semplice strumento che evita proprio che il sapone possa cadere a terra ed è anche importante perché consente alla persona di insaponarsi anche con una sola mano. è normale che le pareti della doccia siano dotate di sbarre, di maniglioni per permettere proprio alla persona di sedersi e di rialzarsi anche molto facilmente questi sono degli accorgimenti che dovete prendere subito nel momento in cui magari vi è stata diagnosticata una diagnosi di demenza ma diciamo che questi sono degli accorgimenti ormai che si fanno per la disabilità, per le persone disabili anche in genere. Non parlo della vasca da bagno perché vi ripeto la vasca da bagno è uno strumento che a me non piace molto perché non è assolutamente né sicuro e che secondo la nostra opinione crea anche disorientamento. Comunque, in attesa che la vasca possa trasformarsi in una doccia è giusto che voi vi dodiate proprio di alcuni ausili molto importanti. Il fondo della vasca deve essere ricoperto di un tappetino anche questo antisdrucciolo che però deve aderire in modo solido e che richiede proprio che la parte proprio di sotto della vasca da bagno sia sempre in umidità. Ricordatevi che questi tappeti tendono sempre a lavorarsi, tendono sempre ad un adannerirsi e sono ricettacolo anche di molti batteri e quindi devono essere cambiati molto spesso e disinfettati anche con detergenti come per esempio la mucina che dovrebbe essere buttata su questo tappeto ogni qualvolta viene fatto il bagno. Però magari nella vasca da bagno sarebbe anche più consolo e più utile mettere anche uno sgabello da appoggiare proprio sul fondo in modo che la persona possa anche essere sollevata. Però naturalmente anche gli sgabelli devono essere appoggiati molto bene perché anche questi possono scivolare e quindi creare un pericolo per la persona con una demenza. L'operazione del lavarsi che è una delle operazioni veramente più incredibili per la persona con la demenza ne parleremo subito dopo, deve comunque permettere alla persona di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché questa operazione avvenga nella maniera più tranquilla possibile. Io dico sempre che i bagni delle persone anziane dovrebbero essere specialmente delle persone con la demenza dovrebbero essere dei bagni delle sale accoglienti che permettono proprio anche alla persona con la demenza di trovarsi e farle sentire a proprio agio, a proprio comodo. Cioè il bagno non deve essere visto come una cosa brutta ma dovrebbe essere vista veramente come un qualcosa di molto importante per loro. proprio perché devono accedere a questa stanza con una certa facilità e anche con un certo piacere quindi io dico sempre cercate di fare in modo, fate in modo che la stanza del bagno sia una stanza veramente colorata dico sempre, comprate anche delle ciambelle colorate quindi cercate anche il bidet, fate in modo che anche il bidet possa essere differenziato con il colore rispetto al bc perché molto spesso loro confondono la tazza del bc con quello invece del bidet dice ma come dobbiamo fare? allora differenziate se il bidet è bianco magari mettete una ciambella colorata appunto sul bc del colore che magari a loro possa piacere naturalmente tutto questo è tutto molto particolare perché per esempio noi abbiamo anche delle persone che a causa di mancanze di protesi proprio perché non hanno potuto fare l'operazione della protesi perché appunto con delle demenze quindi anche ginocchia sono ridotte malissimo hanno bisogno di giambelle molto particolari quindi questa accortenza poi, tutte queste accortenze poi devono venire appunto strada facendo però anche nel bagno cercate di evitare proprio spine cercate di evitare piccoli elettrodomestici come ad esempio il foam se la persona vive da sola toglietelo di mezzo attivatelo soltanto quando questa persona è con una persona di fiducia non vi dico di non darvi in mano il forno nel senso che il forno è una di quelle invece specialmente nelle donne è uno di quegli attrezzi che utilizzano molto però fate in modo che questo utilizzo venga sotto la vostra diretta supervisione anche in questo caso per gli uomini cercate di utilizzare, di sostituire il rasoio da barba con un rasoio elettrico se lo riesce a fare altrimenti fate in modo che possa tenere, se ancora lo può fare, fate utilizzare il rasoio da barba se non lo può fare perché comunque potrebbe rischiare di farsi male e intagliarsi significa che comunque una persona che in ogni caso forse può trovare anche beneficio e anche un antistress andare a fare appunto la barba dedicarsi una giornata e andare a fare appunto la barba da un barbiere magari anche sul barbiere di fiducia ricordate che il bagno deve essere lasciato illuminato di notte con una picca lucina cercate, questo è qualcosa da valutare perché potrebbe anche essere che il malato, la persona malata non riconosce più la propria immagine riflessa nello specchio noi abbiamo anche delle persone, delle famiglie che hanno dovuto coprire anche le maniglie del lavandino anche i pomelli del lavandino perché questa persona vedendo la propria immagine riflessa pensava di avere un ladro, pensava di avere un intruso, uno sconosciuto dietro le spalle e quindi gridava anche vedendo soltanto la propria immagine riflessa nel pomello del lavandino o nel rubimento quindi abbiamo dovuto escogitare questa cosa nel caso ci sono persone che non riconoscono più la propria immagine dovete per forza o togliere di mezzo lo specchio o anche la soluzione più facile perché a questo punto lo specchio non ha più nessuna importanza, nessuna utilità oppure mettere un drappo davanti lo specchio ma nei momenti in cui lo specchio non serve più toglietelo direttamente altre cose che possono servire, altri consigli si riguarda proprio gli oggetti di uso comune appunto della persona con una demenza che possono essere proprio spazzolino da denti, dentifricio, pettine ecco, allora se noi ci troviamo di fronte ad una persona con una demenza che prova piacere a spassolarsi anche con i denti perché lo sa fare che trova anche piacere nella Roma del dentifricio noi abbiamo avuto delle persone che nei momenti in cui il dentifricio veniva a contatto con le pareti della bocca dicevano brucia, 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 brucia abbiamo dovuto far comprare il dentifricio per i bambini che quindi ha questo sapore alla fragola questo sapore un po' particolare l'abbiamo preso, abbiamo risolto il problema quindi quando parliamo di persone che hanno tutti hanno i loro denti ancora in bocca che non hanno protesi quindi che possono tranquillamente lavarsi i denti togliete naturalmente gli spazzolini elettrici perché alcune volte si fanno male quindi cercate di vedere quale dentifricio può essere utilizzato il pettine se ancora lo sanno utilizzare fatelo utilizzare e quindi valutate sempre che quando ancora noi ci troviamo di fronte a una persona autonoma che riesce ad utilizzare tutte le cose di uso comune allora continuate a farglielo usare senza nessun tipo di problema con tanti ancorgimenti nel momento invece in cui noi ci troviamo di fronte a una persona che non è più in condizione di riconoscere la funzione di quell'oggetto e quindi di utilizzarlo adeguatamente è inutile tenerlo toglietelo di mezzo utilizzatelo voi se ve lo fa utilizzare ma comunque ci sono degli accorgimenti che poi nei prossimi video sicuramente vi diremo vi dirò anche come fare in modo che la persona possa farsi mettere anche le mani in bocca da voi anche con uno spazzolino grazie grazie